Abbiamo quasi finito di descansare, sono qui con il coach di un concorsole, con Simona che l'ha coordinato, con Daniele Perrotta e Emanuela Lagnare Fremme, che l'avete vista no? Sul settimanale perotvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv e dai nostri Ameri che il nostro angelo ci salva diciamo da scene a volte molto complesse bene, è arrivata l'ora ragazzi, vero Ameri, che dobbiamo andare? hai ancora quattro minuti a discorso, pensa a te quattro minuti, ma Alberto! e bene, qui abbiamo due registi abbiamo quattro registi, Donatello a Lugli Alberto va a avere Donatello a Lugli, però c'è e adesso devo girare con te Albi, vero? ah, devo girare con Alberto! bene ragazzi, vi saluto! vi saluto